Siamo a una quarantina di chilometri da Erbil, Erbil è la capitale del Kurdistan iracheno che è il luogo più stabile e più tranquillo dell'Iraq e quindi tutti quelli che scappano dalle guerre vengono in questa direzione. Adesso andiamo a vedere un campo e Barbara Molinario dell'UNHCR ci dice dov'è che andiamo di preciso, Barbara. Stiamo andando a visitare il campo di Gawilan per andare a trovare dei rifugiati siriani che sono arrivati circa due anni fa. Davanti alla guerra le persone scappano, è un comportamento umano, le persone in fuga dalla guerra diventano rifugiati. Il rischio è che quando si è rifugiati si smetta di essere persone, si diventi un numero, un problema, un posto tenda in un campo e invece per rimanere persone ci sono tanti modi. Se si suona, se si fa il musicista abbiamo visto che è più facile rimanere persone anche se si è un po' per un po' di tempo dei rifugiati. Il rischio è un po' per un po' di tempo, è un po' di tempo. Il rischio è un po' di tempo, è un po' di tempo. Si chi è la vita fa, è un po' di tempo, è un po' che cosa che si ha fatto un po' di tempo, è un po' di tempo, è un po' di tempo e quello che si Non, non ho. Ma un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. Una c'è un po' di tempo». Il che ho avuto, l'ambito, il che ho avuto, Adesso le ritorno, le ha avuto l'anno. Il punto di riuscire come si è riuscito a costruire Il punto di riuscire il nostro canale Il punto di riuscire il nostro canale è un po' di riuscire La prima volta è sempre più difficile e il punto di riuscire il nostro canale è un po' di riuscire In Italia e in Europa c'è molta preoccupazione per l'arrivo dei rifugiati, che cosa possiamo dire agli europei per tranquillizzarli? Le danze indiane sono pericolose. nuestra città è un'amera, i amaya, li ho guardava, ma guardava la faccia, e ho avuto la mia città di brindola. Abbiamo in baştare, abbiamo guardato i culturali, frazioni delle vicini, unico che è di bambino. Abbiamo in stoppire, abbiamo raggiunto il salu, inseriamo il saluto. Abbiamo in colore con i bambini, abbiamo ancora raggiunto un saluto, quindi sono un saluto, un saluto di saluto. Da questo giro nei campi del Kurdistan iracheno ci portiamo l'idea che siamo tutti molto umani e quello che succede a queste persone potrebbe succedere a noi è successo ai nostri genitori, sono stati sfollati e quindi questa cosa un po' deve interrogarci siamo fatti della stessa pasta Grazie a tutti